Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. Sì, 61,6%. È una barbarie, andrebbe usato il meno possibile, 19,6%. È giusto ogni qual volta la semplice detenzione non riesca a eliminare la pericolosità del condannato, 4,8%. Anche qui opinione pubblica fortemente orientata. Ne abbiamo altri? Abbiamo finito. Benissimo, allora cominciamo con la vicenda.